Musica E' ai nastri di partenza la seconda edizione dell'evento De la Terre à la Table, Bourse des Produits Val d'Otent, Borsa delle Produzioni Agricole e delle loro trasformazioni, che nell'area Espassa-Osta farà convergere domanda e offerta del settore agroalimentare in una giornata d'incontro tra produttori agricoli, commercianti e trasformatori, che avranno la possibilità di stringere nuovi rapporti commerciali e consolidare quelli già esistenti. Ad organizzare l'iniziativa è l'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali e la Chambre Val d'Otent des Entreprises des Activités Liberales, in collaborazione con l'AREV e la Federazione Coldiretti Val d'Osta. A declinare i dettagli della nuova edizione sono stati l'Assessore all'Agricoltura e Risorse Naturali, Renzo Testolin, e il Presidente della Chambre Val d'Otent, Nicola Rosset, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a martedì 4 novembre. De la Terre à la Table, Bourse des Produits Val d'Otent, che avrà luogo il prossimo 12 di novembre presso la Pignera d'Entreprise, è un momento di confronto che vuole mettere in contatto i produttori agricoli valdostani con le aziende del territorio, aziende di trasformazione, aziende commerciali, aziende turistiche, che vogliano utilizzare sempre di più e creare sempre un legame sempre più forte con quelli che sono i prodotti e il territorio stesso. Questo è un momento di conferma di quanto è iniziato nella scorsa stagione, dove si è cercato di far conoscere tutti i produttori a chi poi commercializza i prodotti o li trasforma, in modo da creare quelle sinergie indispensabili per valorizzare da un lato i prodotti del territorio, ma dall'altro per valorizzare anche il nostro turismo, il nostro commercio, che potrà vantarsi sempre di più di quelli che sono delle peculiarità e delle unicità della nostra regione. La borsa è aperta a tutti, puntando molto sul territorio locale, senza dimenticare alcuni soggetti importanti fuori valle. Quest'anno si sono già iscritte 60 aziende, 22 della filiera dei vini, 18 appartenenti alla filiera ortofrutticola, 11 del settore lattiero caseario, oltre a produttori di miele, carni e altro ancora. Per aderire i produttori interessati possono contattare gli uffici dell'assessorato, mentre le visite e gli appuntamenti per trasformatori, commercianti, ristoratori, albergatori, associazioni e istituzioni sono gestiti dalla Chambre. Le novità sono quelle che abbiamo ricepito dai partecipanti, ci avevano chiesto di cambiare data, ci avevano chiesto di cambiare location e questo l'abbiamo fatto. La nostra intenzione è di essere ancora più forti nella direzione, di far conoscere tutto il nostro mercato, a tutti i nostri trasformatori, a tutti i nostri commercianti i prodotti che ci sono, sia a chilometri zero che sul territorio. Perché mai come in questo momento, in un momento così complesso, in cui bisogna dare fiducia al settore, perché quello che serve è fiducia, bisogna far sì che le aziende collaborino. Questo secondo me può essere un'ottima palestra, sia per uscire dai nostri confini, perché se le aziende incominciano a conoscersi possono anche relazionare fra di loro, fare un tessuto che possa essere esportabile. E poi naturalmente è fondamentale che ristoratori, albergatori, pasticceri, trasformatori, come dicevo prima, possano sapere cosa c'è sul territorio per poter utilizzare al meglio i prodotti locali, che tra l'altro sono sempre comunque dei prodotti di eccellenza. Questo secondo me è una valenza che ha un plus valore da poter essere venduto molto importante.